Ciao a tutti ragazzi sono il Venture Magic Oggi finalmente siamo qua con un video diciamo circa speciale Perché non farò proprio un video speciale però adesso vi dirò perché Per i 500 iscritti Lo so ragazzi che questo video lo faccio leggermente in ritardo Però volevo preparare abbastanza sorprese per voi Quindi l'ho fatto adesso E vabbè allora andiamo direttamente al sodo per non farvi rompere le scatole Se sto guardando in basso è perché devo farvi vedere una cosa Vabbè comunque allora Prima di tutto chi mi segue a molti in Clash of Clans sa già che Una delle tre sorprese che vi dirò Che poi una veramente non ve la dirò adesso Cioè praticamente una Chi mi segue la sa già Un'altra ve la dirò adesso E un'altra la vedrete in un altro video E adesso vi farò un piccolo spoiler Che sarebbe questo che vi ho appena fatto vedere Allora Praticamente in questi mesi qua sono cambiato un casino di cose Non faccio un vlog da un fracasso di tempo Infatti ormai ho perso la condizione del tempo Non so quanto tempo si è passato Oh mio dio Il prossimo altro vlog l'ho fatto a settembre Sì forse in estate Vabbè comunque allora Partiamo Dicevo Chi mi segue sa che la sorpresa è che In Clash of Clans ho fatto un terzo clan Per saperne di più dovrei mettere in questo momento qua Dove metto il dito circa Qua Metterò un coso cliccatelo per passarvi al video di Clash of Clans E dove spiegherò tutto sul nuovo clan Perché me lo state chiedendo Fra cazzo di tempo Poi ragazzi La seconda sorpresa che vi dirò adesso Che è una novità Che ho cominciato Come vedete a lavorare con Photoshop O comunque dei programmi per il montaggio Con l'aiuto di un mio amico Che ringrazio Adesso non dico il nome perché non c'ho voglia Perché poi vedremo Prendiamo più avanti Che mi sta dando una mano a fare delle altre sorprese Che vi dirò poi Praticamente Ho cominciato a fare miniature dei video Quindi Diciamo magari Credo che molti l'abbiano notato Perché già in molti video ho caricato le miniature In questi giorni ovviamente Non avete visto che caricavo nulla Perché ero semplicemente con The Mausen in vacanza Quindi Mi sono un pochino rilassato Poi la terza sorpresa La vedrete Prossimamente Ne sono molto fiero ragazzi Perché È una cosa che veramente Sto cercando da un anno Infatti Chi mi segue Sa sicuramente Che lo sto guardando Un casino di video E una parte C'è Motivata per questa cosa qua Che vedrete nel prossimo video Che noi faccio andare adesso Così andate a vedere anche il prossimo E Vabbè Cos'altro dirvi Vi ringrazio E Basta Ciao a tutti ragazzi Da Adventure Magic Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Sono Adventure Magic Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti